Musica Benvenuti al TG10, parliamo di lavoro in apertura del telegiornale occupandoci dell'assemblea che si è svolta ieri a Gela nella Chiesa Sacro Cuore alla presenza del Vescovo della Diocesi di Piazza Elmerina Monsignor Rosario Gisana al fine di comprendere l'attuale crisi economica e occupazionale che si è battuta in città. Succellenza, lei ha avuto l'ennesimo incontro con i lavoratori dello stabilimento. Da loro parte un'invocazione d'aiuto. Le chiedo come sta intervenendo la Chiesa e questi incontri, quale finalità hanno? Io credo che tutto questo abbia almeno due prospettive. La prima, immediatissima, è quella di aiutare la gente a pensare. a sollecitare la creatività, a dare forza, coraggio, consolazione, speranza. Noi non possiamo vivere nella depressione, non possiamo vivere in uno stato di rassegnazione perché appunto si vedono tanti nostri cari lavoratori che perdono ogni giorno il lavoro. non possiamo vivere così. Quindi per me è importante, chiaramente con tutta la comunità ecclesiale, far capire loro che noi ci siamo. E chiaramente un'assemblea di questo genere ha voluto essere fondamentalmente un segno di, come dire, di, sì certo, di speranza, di consolazione, ma ripeto, di riflessione seria su quello che sta accadendo. In secondo luogo, io penso che tutto questo aiuti a formare una mentalità, perché è questo a cui io a dire il vero tendo. Certo, capisco che sarebbe meglio se io riuscissi a dare il lavoro oggi stesso o domani o dopo domani a delle persone che evidentemente lo chiedono. Però tutto questo, almeno in questo momento, non è possibile. Però quello che è possibile è che noi dobbiamo cambiare la mentalità. Cioè dobbiamo in qualche modo liberarci da tutte quelle forme di dipendenza e saper creare lavoro. E il creare lavoro lo si può fare solo se noi riusciamo a svezzarci e soprattutto sappiamo camminare con le nostre forze. Ecco, lei diceva, sottolineava, che non bisogna rassegnarsi, che la Chiesa è vicina, ma in termini molto più pratici, al lavoratore, che non sta portando nulla a casa, con i figli a carico e la moglie. Cosa diciamo? I soldi da dove arrivano? Se noi ci diamo la mano, tutti assieme, tutte le istituzioni ecclesiali, civili, e poi le varie agenzie educative, la scuola, la famiglia, e poi ancora immagino gli imprenditori, liberandoci da quelle spire purtroppo di male che c'è ovviamente, che interferisce e crea ancora di più difficoltà nel poter, perché non dobbiamo dimenticare che i nostri lavoratori, purtroppo il soldo facile lo possono trovare. E allora, evitare questo per me è molto importante, perché sono convinto che proprio nella collaborazione di tutti noi possiamo trovare la soluzione per ciascuno. Cambiamo argomento, iniziative da intraprendere a seguito del voto negativo della prima commissione affari istituzionali dell'ARS, sui disegni di legge che prevedono le variazioni territoriali dei liberi consorsi in Sicilia. E' quanto dibattuto ieri tra i componenti dei comitati per lo sviluppo dell'area gelese, pro referendum Piazzarmerina, liberi consorsi iniscemi e consulta di niscemi alla presenza del sindaco di Gela, del suo omologo di Piazzarmerina ed altri rappresentanti. L'incontro è svolto nella stanza del primo cittadino gelese, presente anche una delegazione del comune di Licodia e Obea. Tutti hanno ribadito il loro stupore e la contrarietà alla bocciatura, motivando ampiamente sulla mancata applicazione delle norme vigenti e sulla considerazione che hanno avuto nei confronti delle popolazioni e degli ispettivi consigli comunali. Non c'è alcuna intenzione, hanno detto ieri di rinunciare a ciò che rivendicano come un diritto acquisito e nessuno potrà ostacolare la libera e democratica scelta che le comunità di Gela, Piazzarmerina, Niscemi e Licodia e Obea hanno fatto. E Liliana Bellardita, portavoce di Gelensis Populus, in una nota, sottolinea che il comitato è stato volutamente escluso ieri alla riunione che si è svolta al comune. Se il tavolo, si legge, fosse stato istituzionale, allora avremmo compreso l'esclusione del comitato Gelensis. Ma dal momento che al tavolo erano seduti altri comitati con la nostra sola esclusione, a questo punto vorremmo capire dal primo cittadino la motivazione di questa chiara e voluta esclusione. Forse sconosce l'esistenza di Gelensis, mi pare poco credibile o in alternativa sarebbe grave. Forse il sindaco non conosce le battaglie che Gelensis ha fatto e fa in città per i liberi consorsi, mi pare poco credibile o in alternativa sarebbe veramente grave. Se sconosce chieda alla città. Oppure, si legge ancora, dobbiamo arrivare, poi per assurdo, a pensare che si sta tentando di ordire qualche trama che avutamente si vuole rendere nota a quei pochi che sono funzionari e organici. Sindaco, dice Bellardita, stai sbagliando e non stai sbagliando con Gelensis, ma con tutti quei cittadini che Gelensis rappresenta e in esso si riconoscono e che hanno sperato, con te, che i muri del palazzo di città potessero essere trasparenti. Nonostante non siamo riusciti a raggiungere il sindaco messinese, e se noi non demordiamo e proveremo a contattarlo anche nei prossimi giorni. Adesso cambiamo definitivamente argomento con le nostre telecamere. Oggi siamo stati nel quartiere di Macchitella a Gela, dove si registrano numerosi disagi. Sentiamo. Ormai i problemi nel quartiere sono innumerevoli, soprattutto la pulizia, cumuli di spazzatura, verde incolto, marciapiedi disconnessi, auto che transino a forte velocità senza che il comune intervenga ponendo i dissuasori. Onestamente siamo stanchi, sono mesi che noi facciamo richieste e non abbiamo riscontro alcuno. Abbiamo fatto anche richieste propositive. L'amministrazione non solo ha accolto le nostre richieste propositive, ma non ha elaborato soluzioni alternative. Noi siamo stanchi, i cittadini sono stanchi, arrivano centinaia di richieste, per cui ci auguriamo che l'amministrazione prenda le provvedimenti, altrimenti noi siamo pronti anche alle iniziative più clamorose per il bene del quartiere. Avete chiesto anche degli incontri, un confronto? Noi abbiamo sollecitato l'amministrazione inviando centinaia di richieste. Ci aspettavamo un riscontro. Magari non dico un incontro perché capisco che gli impegni possono essere numerosi, le problematiche varie, però almeno un riscontro anche cartaggio alle nostre richieste sarebbe stato auspicabile. Non tanto per noi comitato, ma per rispetto dei cittadini che hanno creduto nella volontà di cambiamento, purtroppo questo cambiamento ad oggi non è arrivato. Qual è l'emergenza più importante che avete più volte denunciato? L'emergenza più importante sono i rifiuti, il fatto che non è stata fatta una deblattizzazione, una derattizzazione e quindi pulizia, sicurezza, sicurezza indesa non solo come sicurezza dei cittadini fisica, ma anche sicurezza in senso lato, quindi il fatto stesso che i marci di piedi sono disconnessi e quindi i numerosi anziani purtroppo hanno problemi quando le ambulano. Noi abbiamo fatto numerose segnalazioni sia per la capitossatura degli alberi e per la messa in sicurezza degli stessi perché con gli ultimi venti in particolar modo ci sono dei grossi rami che si sono spezzati e sono lì per cadere e quindi possono creare dei danni alle persone. Noi per carità non siamo contro la nuova viabilità perché non è compito nostro decidere questo, però perlomeno se si sceglie che una strada così piccola come Via Caviaga venga interessata da due flussi di automobili, perlomeno installate uno solo dei divieti di sosta perché ci sono macchine parcheggiate a destra e sinistra, due flussi di auto che entrano che con l'ingolgo che creano, il pullman che non può girare, insomma è diventata una situazione un po' ingestibile. Noi facciamo la raccolta differenziata, però di notte, di mattina presto, la gente prende le sacchette e le butta là, ma non è che possiamo noi... Ora io consiglierei al signor sindaco di mettere le secchioni come erano prima qua, così che i secchioni non si rubano perché c'è scritto comune di Gela e possiamo fare un pochettino di pulizia. Il problema dei randaggi è un problema che ormai si sta moltiplicando qua a Macchitella, legato essenzialmente alla presenza di rifiuti lasciati in maniera indiscriminata praticamente alla loro disposizione. Ogni sera praticamente, poiché buona parte dell'immondizia viene lasciata, non viene inserita all'interno dei cassonetti, dei bidoni, perché sono presenti solo due o tre bidoni per la raccolta e non sono presenti i bidoni per la plastica, non è presente il bidone per l'indifferenziata, i cani fanno scempio. La pagina della cronaca giudiziaria dovrà espiare due anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione perché ha ritenuto responsabile di associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di droga. Destinatario del provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ed eseguito dalla polizia è Emanuele Gangi, 47 anni. Sempre la polizia del locale commissariato ha denunciato quattro persone per svariati reati. Altro che sesso debole, altro che gentil sesso, l'altra metà del cielo che tutela ed assicura la tenuta dell'ordine pubblico in città è stata al centro della interessante puntata di Agoran data in onda ieri sera su Canale 10. Sfatando consolidati tabù e di soliti luoghi comuni che volevano solo i maschi ad occuparsi di alcuni settori strategici come quello delle forze dell'ordine, sono state proprio loro, le donne, al centro del fortunato rotocalco settimanale della nostra emittente televisiva. Donne che ricoprono funzioni apicali nelle tre forze dell'ordine presenti in città e quindi nella Polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, oltre che nella Magistratura. Gela vista con gli occhi di chi gelese non è, ma che ha scelto di svolgere in questa nostra complicata città la loro missione professionale. Città vivace, come l'ha elegantemente descritta la dottoressa Lara Seccaccini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Una vivacità che in passato ha creato fortissime problematiche al quieto vivere civile, ma che se fosse trasformata questa vivacità in fantasia e carica culturale, potrebbe diventare davvero sconvolgente e impositivo per l'andamento di una città in grave crisi. Con il magistrato in studio, assieme al conduttore, anche il commissario capo della Polizia di Stato di Gela, dottoressa Laura Romano, ed ancora il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, Angelica Zarba, ed il maresciallo della Compagnia dei Carabinieri di Gela, Valeria Rotondale. Tutte donne in carriera, tutte non gelesi, eppure legate a questa città e a questo territorio nel quale stanno svolgendo la loro carriera professionale. Tutte, peraltro, d'accordo all'unisono che Gela si può e si deve cambiare. Tutte concordi, insomma, che le straordinarie potenzialità di questo territorio possono dare la stura ad una nuova e più radiosa prospettiva futura. E tutte, nel frattempo, impegnate ad assicurare l'ordine e la legalità in una città che spesso non è proprio andata perfettamente in armonia con questi concetti basilari del vivere civile. Tanti gli spunti emersi nel corso dello stuzzicante dibattito che è scaturito dal salotto televisivo di Agora. Chi volesse rivedere questa interessante puntata del nostro talk del venerdì sera potrà farlo con la replica integrale, che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10, oppure sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet del tg10.it e sul profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i Gelesi. Si concludono domani i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri agostiniani a Gela. Alle 8 suono festoso di campane e spari di Mortai. Alle 9.30 benedizione e apertura della cena di San Giuseppe. Alle 10 passeggiata della banda musicale Francesco Renda per le vie della città. Alle 10.30 solenne celebrazione animata. Alle 12 celebrazione eucaristica e supplica. Alle 15.30 tradizionale Yoko do Iagiuzzo in piazza Sant'Agostino e alle 18 processione della simulacro. Alle 22.30 il rientro del Santo e lo spettacolo pirotecnico in piazza. Apertura della porta santa ieri presso la chiesa San Sebastiano Martire a Settefarine. Apertura della porta santa ieri pomeriggio nella chiesa San Sebastiano Martire nel quartiere Settefarine a Gela. Un momento assai significativo e partecipato che ha coinvolto numerosi fedeli. La porta è un importante simbolo, richiama il passo evangelico di San Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. L'apertura della porta è anche simbolo del cuore misericordioso di Dio dischiuso nel fianco aperto di Cristo sulla croce. Che il Signore non ci ha dimenticati e che il Signore ci offre sempre una possibilità che è quella del suo amore, della sua misericordia e della sua pace di cui tutti ne abbiamo bisogno. E una porta aperta all'intera comunità gelese? Sicuramente perché non è soltanto un vatto privato che appartiene solo a quella di Settefarine e tutta la cittadinanza che deve partecipare ma che viene coinvolta perché Settefarine non è steccata dalla città, è la città di Gela e fa parte della città di Gela. E come hanno accolto i residenti della zona all'apertura della porta santa? Sicuramente con tanta gioia perché è sempre, dicevo, un momento di grazia e un'opportunità per fare delle verifiche personali e soprattutto interiori su come noi viviamo la nostra fede e che rapporto abbiamo con Lui. Subito dopo l'apertura il Vescovo Rosario Gisana e tutti i fedeli hanno varcato la porta della misericordia. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia confessando che Gesù Cristo è il Signore. Alla fine della cerimonia il Vescovo ha preseduto la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai presenti. L'ENI Group Club è l'Istituto Tecnico Industriale Morselli assieme alla manifestazione intitolata L'ITIS di Pinge. 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura ENI Group si cimenteranno in un inedito progetto di pittura che nasce da una intuizione di Giacomo Alessi, presidente del Consiglio d'Istituto e componente del direttivo dell'associazione dopolavoristica ENI Group Club. Il progetto prevede due giorni di incontri nei quali verranno realizzati due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici. La finalità è quella di avvicinare alla cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici. Seguirà l'andamento dei lavori l'insegnante dell'Accademia del Club Valentina Catalano. La manifestazione è articolata in due giornate di incontri. La prima il 12 maggio, la seconda il 17 maggio nel Salone del Centro Culturale di Viale Corte Maggiore. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Apertura sulla bocciatura del disegno di legge per la ridefinizione dei confini territoriali. Chi l'ha ispirata scrive il giornale in prima pagina è un povero illuso. Resta il fatto che si è tentato di dare un duro colpo alla democrazia diretta, anche se non è ancora detto che Gela resti con Caltanissetta. I comitati referendari promettono infatti di dare battaglia. È l'argomento portante di questa settimana. Sulla stessa vicenda Giulio Cordaro rincara la dose nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto. titolo molto eloquente, disonesti e disonorati riferito ai deputati che hanno momentaneamente affossato il disegno di legge sul passaggio di Gela, Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania. Nello Lombardo intervista Enzo Madonia, anima del Movi e della Casa del Volontariato che non lesina qualche punzecchiatura alla giunta messinese. Lo stesso Nello Lombardo fa il suo reso conto dall'ultima seduta a consigliare sul question time in cui si è di nuovo discusso animatamente sulla questione dei rifiuti. All'interno altri articoli di attualità e cultura tra gli altri quelli a firma di Lucrezia Ferro da Desiree Alabiso, Marco Di Dio e Gandolfo Cascio. Lo sport con un'ampia intervista di Orazio a comando al capitano del Gela Alessandro Bonaffini che manifesta il suo desiderio di restare in bianco-azzurro. In ultima pagina, come di consueto, gli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Il 15 maggio si celebra la giornata internazionale della famiglia programmata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La celebrazione riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia intesa come unità fondamentale della società. Anche a Gela sarà celebrata la festa con un programma ben nutrito che comprende un giubileo per le famiglie che si terrà domani nella Casa della Misericordia ed un convegno previsto per sabato 14 maggio dal titolo Famiglia diventa ciò che sei. Saranno presenti il Vescovo della Diocesi, Rosario Gisana, Rita Morelli, psicoterapeuta della famiglia e Francesco Pira, sociologo. Nel corso del convegno saranno premiati gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole elementari della città che hanno partecipato al concorso Parlaci della tua famiglia. Preside, tra un paio di giorni sarà inaugurata questa nuova struttura che è veramente straordinaria, fatta bene, molto accogliente e davvero ricorda quelle biblioteche di un tempo dalle quali noi deriviamo? Certamente, però noi abbiamo cercato di coniugare il classico e il tecnologico perché ancora non si vedono ma sul tavolo ci saranno nove computer uno per ogni tavolo collegati con il wifi e considera agli studenti non solo di cercare il libro cartaceo ma anche di fare ricerche attraverso internet, per esempio. Niente, siamo contentissimi è un progetto che è partito con il mio predecessore e però poi l'abbiamo rimodulato e reso quello che è attualmente. Quanto è costato, Preside, questo progetto? Diciamo 80.000 ma ancora dobbiamo farci conti bene. Però è veramente un dono un regalo alla scuola, agli studenti ma anche alla città potrebbe essere fruibile, ad esempio anche da altri ricercatori studiosi provenienti magari da università? Assolutamente sì, anzi noi siamo già in linea non solo con la Circolare 3 di Berlinguer quando era ministro ma con la legge sulla buona scuola che chiede alle scuole di aprirsi il territorio una biblioteca poi è un patrimonio non può essere un patrimonio esclusivo di alunni che frequentano questa scuola ma certamente si apre alla città anche per incontri culturali di un certo tipo che magari sono riservati a poche persone e loro si possono mettere qua Preside, quanti libri conta? quanti volumi conta questa biblioteca? Mi dicono almeno 11.000 però aspettiamo di completare la catalogazione vorremmo fare anche la catalogazione in digitale nella speranza che così anche la ricerca possa essere più celere ma non solo abbiamo dei volumi che vanno toccati una sola volta per digitalizzarle e poi devono rimanere in donsi perché si potrebbero rovinare La cosa interessante è che avete pensato anche alla lettura come un momento di relax ci sono proprio delle poltroncine che danno la possibilità a quanti lo volessero di godersi insomma il proprio libro in tutto relax non di relax ma di lettura piacevole di lettura comoda abbiamo dei poggialibri dei tavolini su cui poggiare i libri raccolti e le poltroncine dove accomodarsi per operare la ricerca e la lettura del caso Torno in piazza la zalea della ricerca appuntamento previsto per domani in piazza Umberto I in occasione della festa della mamma l'iniziativa è dell'AIRC l'associazione italiana ricerca sul cancro la cui delegata a Gela è Graziella Condello Città e adesso parliamo della primavera dell'arte è stata inaugurata ieri sera nei locali del museo archeologico regionale di Gela la quarta edizione della primavera dell'arte promossa dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Trischelion grazie alla collaborazione di altre associazioni tra cui la Proloco l'iniziativa è stata salutata con entusiasmo dal direttore del museo Ennio Turco l'obiettivo della primavera dell'arte qual è? quello di richiamare turisti in città? credo richiamare turisti in città è un'operazione molto più difficile perché questa parliamo di un'industria del turismo che riguarda di più le borse del turismo riguarda molte cose che il museo come istituto di cultura non ha competenza questi sono altri istituti che hanno la competenza del turismo noi proponiamo se vengono bene per la città ma se non vengono non possiamo farci niente voi il vostro l'avete fatto? noi il nostro l'abbiamo fatto nei locali del museo è stata vestita una mostra di dipinti e sculture a cura del centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo sono presenti Alfredo Bordenga di Agrigento la scultrice Lina Territo ma ci sono anche pittori come Antonio Chipinti come Pietro Attardi Andrina Bertelle Pippo Porte di Cepalù Andrina Bertelle e tanti altri pittori di un certo valore e prestigio assieme a uno scultore locale Roberto Tascone di Gela che ha presentato tre sue prestigiosi opere messe a disposizione qui in esposizione nel nostro museo L'archeologa Serena Raffiotta ha tenuto una conferenza dal titolo Dei a Morgantina e il ritorno di Ade Il rientro della testa di Ade in Sicilia è un argomento di grande attualità naturalmente Morgantina in comune con Gela le origini nel mondo greco per cui due centri che si uniscono così come ad unire Gela e Morgantina è anche un tema recente diciamo attuale che è quello del trafugamento delle opere d'arte per cui il recupero di questo preziosissimo reperto restituito dagli Stati Uniti all'Italia ci fa sperare che altre storie di trafugamenti possano avere un lieto fine Gli appuntamenti della primavera dell'arte continuano fino al 21 maggio prossimo Oggi c'è stato l'altro appuntamento del Cultural Game un evento straordinario a cui hanno partecipato 50 studenti divisi in 4 squadre che ha permesso di andare per la città a ricercare un po' i tesori di Gela attraverso alcuni enigmi abbiamo altri importanti appuntamenti come quello del 13 maggio una mostra archeologica poi il 15 saremo impegnati ai bagni greci e il 21 si chiude la straordinaria chiusura con la visita notturna nelle mura devo dire che siamo molto felici della partecipazione della cittadinanza non ce l'aspettavamo sia per le mini olimpiadi che per la mostra eccetera speriamo di proseguire così per i prossimi appuntamenti rendere accogliente uno stadio che si appresta ad ospitare un torneo di serie D è l'obiettivo della quarta commissione consigliare sport ed eventi formata dai consiglieri Sammito Amato Bonura e Didio sopra il luogo assieme all'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco e al geometra Catania allo stadio presti bisogna intervenire in tutto terreno di gioco spogliatoi bagni tribuna curva ed ancora lavaggio dei posti a sedere in tribuna e sistemazione dell'area dedicata alla stampa e alle televisioni inoltre la gradinata in ferro dovrebbe essere rimossa per creare una nuova gradinata la commissione sta lavorando ad un regolamento per l'uso degli impianti sportivi che sarà proposto anche alle società di calcio che useranno lo stadio la pagina dello spettacolo questa sera al cineteatro l'antidoto di Macchitella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette assieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale e vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento di questa sera chiude la rassegna Teatro 2015 2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela e al Teatro Eschilo oggi alle 20.30 e domani alle 18 è prevista la rappresentazione teatrale del Marchese di Ruolito di Nino Martoglio sul palco docenti genitori e alunni dell'istituto scolastico Paolo Emiliani Giudici grazie alla collaborazione dell'associazione Grada Team che da anni è impegnata nei progetti di drammatizzazione inseriti nel POF Noi abbiamo concluso anche per oggi l'informazione grazie per averci seguito vi auguriamo un buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti